Possiamo andare Bella a tutti voi Io non dico nient'altro Oggi Si fa la rasata barra pelata Io lo dico raga E si fa oggi Comunque niente raga Bella a tutti Siamo 4 Intanto la pelata inizierà La pelata La rasata inizierà verso 3 Sono un 3.10 In più In più Penso che 300 follower Ci sarà Una nuova sfida Una nuova challenge Niente consigliatemi cosa fare adesso Un attimo Nella mezz'ora Che noi aspettiamo 20 minuti Per dopo andare a Una sera Grazie a vostri capo di follow Grazie mille Grazie mille infinite Vabbè raga Arrivo subito E niente Si arrivo Datemi 2 minuti Ciao ragazzi Io sono Mi sa che non mi incazza Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti 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 Sì, ma il gigante, quel mattone di Nike Basta che metti qua Basta che metti qua Ma com'è? Usi il Mac come portabicchiari Cioè tu spendi 7000 euro di Macbook Pro e ti lo usi come portabicchiari No, per favore Qu'è una volta che il tagli un compagno? No, no, no Qu'è una volta che vedi? No, no, no No, 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 no Per favore No, no, no No, no No Oh Prendi no 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 fai mona dammi la bottiglietta d'acqua hai uno spruzzino no hai 10 spec quanti 10 frat vado vai frat cosa vuol dire vai vai frat vai frat si viva 90 solo yes sir fatti vedere no 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 20 euro bensì ragazzi questo era l'estrato live dello speciale dei 200 follower che ho fatto su twitch l'altro ieri vi ringrazio moltissimo per i 200 followers il canale di twitch sta crescendo sempre di più giorno dopo giorno il prossimo obiettivo sarà quello dei 300 followers attualmente siamo in 240 questa come quella che vedete qua in cima a me è si la pelata purtroppo cazzo però niente ragazzi vi ringrazio molto per aver visto questo video si lasciate un bel like commentate condividete e noi ci rivediamo in un prossimo video bella boys grazie mille ancora grazie mille ancora grazie mille ancora